Ciao a tutti e bentornati su Hard Rock Crypto da Rick. Andiamo a vedere tutti i vantaggi di Binance, l'exchange attualmente numero uno al mondo per quanto riguarda le criptovalute. Prima di iniziare però prendete e ammazzate il bottone del like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e accendete la campanellina per rimanere aggiornati. Dunque ragazzi registrarsi su Binance è semplicissimo, vi basterà la vostra mail e dovrete naturalmente inventarvi una password, più complicata sarà meglio è. Inoltre è altamente consigliato attivare il two factor code e più verifiche d'accesso possibile per limitare eventuali attacchi, quindi sempre allerta. Inoltre per sfruttare al meglio questo exchange bisogna fare il KYC, quindi la verifica dell'identità. Sarà semplicissimo, dovrete andare nella sezione adatta, vediamo qua che io sono già verificato, vedete questa spunta verde qui. Vi chiederanno i vostri documenti e altre informazioni utili che dovrete dargli per poter usare questo exchange. Inoltre invitando degli amici avrete dei bonus, a tal proposito trovate il referral link del nostro canale in descrizione. Avrete così lo sconto delle commissioni per sempre del 10% fino a 100 USDT di bonus di trading. Tutto questo soltanto dopo aver fatto la verifica dell'identità e utilizzando il nostro link. Dovrete inoltre effettuare un primo deposito di soli 10 dollari e fare un trade sulla sezione spot di almeno 10 dollari. Tutto qui quindi molto semplice. Naturalmente questi ragazzi non sono consigli finanziari, fate le vostre ricerche sempre e comunque, anche se questo è l'exchange, come dicevamo all'inizio, numero 1 attualmente al mondo. La sezione più utilizzata su Binance è sicuramente quella del trading spot. Eccolo qua, andiamo a vedere come fare. Come vedete appena accediamo c'è un piccolo filmato tutorial che vi spiega il tutto. È consigliato guardarlo così potete sfruttare al meglio la sezione di trading. Noi qui lo chiudiamo. Vediamo che ci fa vedere proprio i passaggi. Leggiamoli assieme, seleziona una coppia crypto, scegli una coppia di crypto specifica e controlla l'ultimo prezzo. Poi clicchiamo su successivo, ci fa vedere appunto visualizza ordini e fondi. Qui potrete visualizzare gli ordini aperti, lo storico degli ordini e lo storico delle operazioni e i fondi. Continuiamo su successivo, ci dice di inserire il nostro ordine. Prova l'ordine a mercato per comprare e vendere rapidamente al miglior prezzo. Poi volendo ci sono le maggiori informazioni. Vi basterà cliccare qui sopra, successivo. Qui possiamo personalizzare la nostra interfaccia di trading. Selezionare il tema, il colore e il layout che preferiamo. Ok, completato. Io utilizzo sempre il limit, quindi mercato quasi mai ragazzi. Vediamo un mercato che praticamente voi inserite la cifra che volete acquistare. Non so, 1000 USDT di Bitcoin che però io non ho. Come vedete il mio saldo in USDT è zero. Ma qui vi apparirà la cifra. Dopodiché potrete comprare senza alcuna difficoltà. Se invece volete mettere il limite, cioè decidere voi a quale prezzo comprare Bitcoin con USDT in questo caso. Ebbene andrete qui, sceglierete il prezzo al quale volete acquistare USDT. In questo momento 70.000 dollari per il mitico Bitcoin. Quindi un Bitcoin 70.000, quasi 71.000 dollari. Ad esempio io invece lo voglio comprare a 68.000. Scriverò 68.000 qui. Come vi dicevo prima adesso non mi appare nulla perché non ho assolutamente USDT sul conto. Però voi poi sceglierete un Bitcoin che lo volete pagare 68.000. Però ripeto qui non ho assolutamente questi fondi. Attualmente almeno, spero in futuro di averli. Ma attualmente no. Quindi cliccherete su compra e qui sotto vedrete il vostro ordine. Se un bel giorno il buon Bitcoin tornerà a 68.000 dollari, lui ve lo acquisterà in automatico. Come da voi impostato. Quindi vedete che è molto semplice. Stessa cosa per quanto riguarda la vendita. Inoltre vediamo qui a sinistra appunto chi sta vendendo e chi sta comprando Bitcoin. E a quale cifra. Poi in alto a destra ci sono altre coppie. E su Binance sono listate davvero tantissime altcoins. E poi vi mostra qua a destra le operazioni di mercato. Naturalmente ci sono altre funzioni come il cross margin a 5x. E come avete visto ho cliccato e vi spiegherà tutto. Potrete fare un quiz per dimostrare di sapere cosa state facendo. Perché tutte le operazioni di trading ragazzi sono altamente rischiose. Mi raccomando sapete che nel crypto può succedere di tutto. Così come nel mondo reale. Ma noi qua parliamo esclusivamente di crypto. Clicchiamo quindi X. Poi c'è l'isolato. Anche qua vi spiegherà il tutto. Ma noi riclicchiamo X. E poi c'è il grid. Dove vi apparirà un disclaimer. Ma sono cose che non tratteremo in questo video. Cercheremo di tenerlo più semplice possibile. Ora vediamo inoltre due tra le sezioni più interessanti dell'exchange. Quindi learn. Come vedete ho cliccato qua sopra. E appunto potrete guadagnare degli interessi flessibili. Oppure fissi a vostra scelta su diverse crypto. Quindi bitcoin e tantissime altre altcoins. E queste potrete esplorarle da soli una ad una. Ce ne sono abbastanza. Direi qua ne vedo una ventina più o meno. Altra sezione che accenneremo anche questa in questo video. Sono quelle del launchpad e del launchpool. Che solitamente performano benissimo su Binance. In questo momento non ce ne sono di disponibili. Però tenete d'occhio questa sezione. Perché potreste ricevere dei soldi praticamente gratis. Sempre naturalmente che abbiate BNB. O le valute richieste dall'exchange. Da mettere in staking. Per partecipare a questi launchpad. Ma è un tema che tratteremo sicuramente più avanti ragazzi. In tutto ciò voi vi chiederete dunque. E dove li trovo i miei fondi? Ebbene qui su questo omino che vediamo qua. Vedete qua c'è la mia mail verificato eccetera. Andiamo su dashboard e vedremo tutto. Ecco qua i miei fondi. Vedete qui. Poi se voglio ad esempio comprare bitcoin. Fai trading mi reindirizzerà direttamente per far trading su bitcoin. E poi qua in alto sinistra trovate una serie di opzioni. Dalla vostra dashboard come vedete overview spot margin future option trading bots earn funding e third party wallet. Noi ad esempio andiamo su spot e vedremo appunto tutti i miei saldi su questa sezione. Quindi molto semplice. Poi c'è il deposito il prelievo e il trasferimento. Tutte le cose basilari per usare un exchange. Che naturalmente dovete conoscere per operare su queste piattaforme. Grazie a tutti ragazzi per aver guardato questo video. Come al solito un abbraccio a tutti. Ci si vede alla prossima sempre qui su Hard Rock Crypto. Oh yeah! Oh yeah!